La regular season di Serie D si chiude non senza sorprese, ad aggiudicarsi il derby campionato al Castrovillari per 2-0. La Palmese saluta così definitivamente gli spareggi promozione, mentre per i rossoneri si aprono adesso le porte per la salvezza. Gaetan e Ragosta mandano KO ai neroverdi di Mister Daltorrione, addio sogni di gloria. Il Castrovillari si prepara ad affrontare gli spareggi play-out. Sarà la Sarnese il primo ostacolo da superare, in caso di vittoria sarà nuovamente derby per la squadra di Gaetano Di Maria, che dovrà vedersela con il Roccella. E gli Ionici nella stessa giornata passeggiano contro il Gladiator, manita per il Roccella che si prepara così alla post-season, dopo una strepitosa partita meritato riposo in attesa di sapere chi sarà la diretta concorrente. Secondo posto doveva essere e così è stato per il Rende, grazie alla vittoria esterna sul campo del Gragnano. Per i Biancorossi inizia la preparazione in vista dei play-off, si torna in campo domenica prossima e sarà Rende Gela. Lotta, soffre, ma si arrende invece il Sersale, battuto dalla Cavese. I Giallorossi salutano i dilettanti con ramari così, ma con la speranza di poter sfruttare i ripescaggi. Maria Chiara Sigillò per la CNews24.